Ciao a tutti da Elettro di Schiavo e da Roberto. Oggi continuiamo sempre i video informazioni che sono i nostri tutorial per dare sempre a voi maggiori informazioni, meglio quello, peggio quello. Ok, andiamo a vedere che tutorial siamo arrivati. Tutorial numero 19. Bene, interessante argomento, lo shooter su faro lenticolare. Ma è sto shooter, Roberto? Lo shooter? Che è un'astronave? Shooter? Che è sta roba? Andiamo a vedere sto shooter. Oh, che cos'è lo shooter? Shooter, parola inglese, significa otturatore. L'otturatore, chiamato anche shooter, è un lamirato inserito all'interno del faro lenticolare che ha scopo di orientare il fascio di luce orizzontale, ok? In modo che si è messo correttamente su strada per non sparare. Lo shooter può essere sia fisso, come per esempio sulle lampadine base a cassette, che ovviamente sono quelle più utilizzate, che è mobile, ricordiamo il biletto, il bixeno, ricordiamocelo, come per esempio su lampadine con base a IR. I nostri amici Toyota Auris hanno la IR 2 con lo shooter che si alza e quindi cambia luce bassa con luce alta, quindi fa abbagliante e abbagliante. Andiamo a vedere. Eccolo qua. Ovviamente il faro lenticolare penso che ormai avete capito cos'è, è quella specie di lente di ingrandimento, quella palla. Qui vediamo un attimino la rappresentazione grafica di come è posizionata una lampadina classica in H7, il lenticolare e lo shooter. Eccolo qua, vedete? Qua è raffigurato ovviamente a livello grafico, lo shooter. Faro lenticolare in questa tipologia di faro, la direzione della luce viene erogata da una lente posizionata davanti alla lampadina che per ultima regola la forma del fascio luminoso è messo su strada, quindi è lui che dà la sua simmetria. Senza questo ovviamente non avrebbe un'asse corretta. Ecco perché l'utilizzo corretto dei prodotti. Andiamo a vedere. Vediamo zoomato. Effettivamente cosa c'è all'interno? Eccolo qua. Un bellissimo faro Ford Kugel. 2018, vedete? Col faro lenticolare che io gentilmente ho spaccato in due, eccolo qua, vedete? E ho tirato fuori il mio bellissimo faro lenticolare. Eccolo qua. Eccolo qua. Questo è ingrandito, zoomato. Andiamo a vedere proprio, vedete qua? Questo è l'alloggio del faro lenticolare, vedete? Eccolo qua. E questo è il lenticolare della Ford Kuga, per esempio. Potrebbero esserci altre tipologie di fari. Come vedete, vedete qua lo shooter? Eccolo qua. Andiamo a vedere. Vedete questa parte qua in alluminio? Questo è lo shooter. E andiamo proprio a rivederlo. E questa è proprio la parte, quella che taglia la luce. Molto importante utilizzare sempre i prodotti corretti. Soprattutto a LED, perché a LED assolutamente, se si va a utilizzare il prodotto sbagliato, si ha il famoso cono d'ombra, fatto ormai, tutorial, strafatto, rifatto, riparlato, strariparlato. Ormai anche i muri le sanno queste cose. Quindi, come vedete, proprio c'è qualcosa fisicamente che va a chiudere la luce. Andiamo a vedere le lampadine corrette. Vedete? Proprio un pezzo di ferro, no? Un lamirato, come proprio abbiamo chiamato. Quindi ricordiamo che su faro, per esempio, BLED, nel momento che montiamo questo prodotto, se c'è questo, andiamo proprio a vedere, se andiamo a montare questo, se andiamo a montarlo in una maniera che un LED guarda sopra, il LED guarda sotto, ovviamente il LED sotto si annienta. qualche furbone, pensando di essere molto più, diciamo, furbo, dando qualche battutina, assolutamente non tecnica, ma soltanto per scrivere. No, ma basta che tu, invece di metterlo così, lo giri così. E cosa cambia? Vedete qua che ci sono dei LED? Ecco, quelli sopra lavorano, quelli sotto lavorano. Che lo giri così o lo giri così, stai sempre lavorando al 50%. Quindi stai sempre lavorando con la parte in alto. La parte in basso va contro qua. È fisica, ragazzi, eh? C'è poco da inventarsi. Qui parlano i fatti. È il video. Quindi, se ancora c'è gente che dice che il BLED va bene sull'enticolare, eh ragazzi, forse a volte facciamo il video in giapponese, in cinese, magari non riesco a esprimermi bene. Quindi, mi sembra di essere, anche con questo ulteriore video, video, e di aver dato ulteriori dati a voi, che il BLED non è assolutamente il prodotto corretto. Andiamo a vedere qual è il prodotto corretto. Ovviamente, come tutte le tipologie di illuminazione, dallo Xeno Aftermarket allo Xeno M a LED, ci sono le tipologie giuste. H7 Xeno, ovviamente, H7 Classic, quelle senza la parte R, che sarebbe la parte quella, diciamo, schermata. E lo Xeno uguale. Ovviamente, parliamo, quello che ci interessa è il kit MonoLED. Il kit MonoLED, che, utilizzando la lampadina verso l'alto, in questo modo, lavorando con la lampadina verso l'alto, il LED va verso l'alto, e quindi riesce a dare il 100% di luce, perché in basso non c'è niente. Quindi, col rimbalzo dentro del catering frangente, che c'è all'interno, perché dentro questo qua è tutto catering frangente, la luce rimbalza, il rimbalzo che viene fuori qua, rimbalzando, fa così. E quindi, il passaggio stretto della corrente, scusate, della luce, luce e corrente sono più o meno la stessa cosa, riesce a passare, riesce a dare la luce perfetta su strada, e non riesce, e non dà i coli d'ombra famosi. Cosa che il BLED, ovviamente, lo dà. Abbiamo fatto anche il tutorial numero uno, su faro, paraboro, faro, lenticolare, e questo ritorniamo un po' al tutorial numero uno. Faro, parabola, BLED, faro, lenticolare, monoled. Perché? Perché c'è lo shooter. Semplice. Senza arrampicarsi. No, ma io lavoro a 360 gradi, lavoro sempre tutto uguale. La lampadina alogena è una cosa, la lampadina alloxena è un'altra, la lampadina LED è un'altra ancora. Tre tecnologie con tre tipologie di LED, di luce diversa. Quindi, lavorando in un modo che non sia il monoled, si otterrà sempre, sempre, il cono d'ombra. Sposti, non sposti, sempre il cono d'ombra. Qualcuno, già detta questa informazione, già ribadisco, utilizzano dei prodotti di fascia alta, quindi delle potenze alte, per cercare di sovrastare il cono d'ombra. Ma non va bene, perché più hai potenza, meno durata, e ovviamente è molto più pericoloso. La soluzione è solo questa, senza stare a guardare. Mi raccomando, prodotto originale monoled della Cree, marchiato ovviamente Riatek, che è il prodotto originale. Sono loro che hanno mandato il prodotto in Europa, i primi a averlo fatto in tutta Europa. Andiamo a vedere anche la scatola, del prodotto originale, perché quando parli di prodotto originale, c'è una società che risponde e ti dà tutte le informazioni del caso, molto importante. No, ma io l'ho comprata all'estero, i tuoi sono uguali, una serie di cose, i tuoi non sono uguali, perché voi non fate nessun test. I test sono stati fatti dalla società. Eccoli qua. Scatola originale, Riatek ovviamente, codice per esempio della cassetta 7807 con il barcode, prodotto originale. No, ma la scatola era diversa, non è il nostro prodotto. No, ma l'ho comprato, il video è come il tuo, è uguale al tuo. Comprato da noi? No, l'ho comprato da Peppino. Vai da Peppino. Non hai comprato il nostro prodotto. Compri da noi, compri da Electro Discount. Sai che cosa stai comprando? Gli altri? Non lo sappiamo. Bene ragazzi, spero ovviamente di aver dato ulteriori informazioni. Vi rifaccio vedere il lenticolare ancora una volta. Vedete il lenticolare? Per ridarvi ancora cos'è lo shooter, cos'è questa cosa? È quella che vi fa fare il cono d'ombra. Quindi il BLED non andrà mai, mai bene. Mi raccomando, il LED elaborati, il LED non elaborati, il BLED, il ZES 2, migliore. Parliamo di tecnica, non di potenze. c'è un qualcosa che va a chiudere la luce, che è l'otturatore, lo shooter. Lo shooter chiude la luce. Se non c'è il mono LED, BLED, non BLED, 4 LED, 5 LED, 20 LED, sempre quello da Solfa. Mono LED, unico prodotto. Quindi mi raccomando. Facciamo rivedere, Marco, eccolo qua. Quindi, anche dopo di questa, avendo smontato questo fanale, vi ho dato ancora maggiormente informazioni per scegliere sempre il migliore prodotto. Bene, come sempre, io vi invito in sede aziendale in via Primo Maggio al Civico 16, la zona industriale, San Zeno e Lambro, in provincia di Milano, il nostro sito internet elettrosegnomenodiscan.com dove trovate la shop online, la nostra email, infochiocciole elettrosegnomenodiscan.com, il nostro numero fisso 02 98 26 0207 per tutti gli appuntamenti e tutte le parti ovviamente commerciali. tecniche ci sono io, ma solo commerciali. Quando arriva il mio prodotto, quando è? Sempre numero fisso. Ovviamente i social YouTube in primis dove andiamo a caricare un ulteriore video tutorial, Instagram con le nostre video, foto classiche, Facebook, cerchiamo sempre di rimbalzare i due social network principali e Twitter sempre l'ultimo. Ciao, alla prossima!